salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video della pantera dello svapo oggi vi aggiorno su un prodotto che ho già recensito forse già sei visto in mano ed è la kiwi lo so adesso direte oh ma perché stai parlando della kiwi visto che tu non eri convinto in effetti non ero convinto per tante cose per i materiali utilizzati perché era leggerissima e si vedeva che i materiali erano scarsi per il tiro per la troppa condensa che faceva infatti i filtri li dovevi cambiare molto ma molto ma molto spesso e quindi dovevi comprarti pacchettini di filtri ogni due giorni stavo dicendo sì è vero ne ho parlato male sia per questo motivo qua e poi per il prezzo perché per quei materiali a quel prezzo sempre esagerato una settimana fa un mio amico mi ha chiamato mi ha detto Aiko senti mica conosci qualcuno che vende le kiwi perché l'ho provata da un mio amico e mi è piaciuta lui utilizzatore di Aikos questo mio amico qua ho detto senti tu lo sai cosa ne penso di questa kiwi non mi piace ma lo dico per te ho detto non mi piace perché poi ritorni all'Aikos e ancora ancora più brutto ritorni alle sigarette classiche e mi ha cominciato a fare una testa ho detto ma a me mi piace l'ho provata allora se l'hai provata e ti è piaciuto meglio questa che l'Aikos meglio questa qua la kiwi che la merda di Aikos perché l'Aikos fa male voglio gli ho preso questa kiwi ho chiamato al mio amico che ha il negozio il negozio è smoghito che si trova sia a San Prisco che a Caserta San Prisco sempre provincia di Caserta ho chiamato e ho detto senti mica c'hai le kiwi disponibili perché sta sul mio amico questa Marta Lann e devo trovare la kiwi l'aveva disponibile sono andato al negozio ho preso la kiwi e l'ho portata a casa di questo amico ovviamente mi sono fatto dare i soldi che ho speso perché non costa poco la kiwi e mi ha detto senti prima che vai via fammi vedere come funziona perché lui l'ha solo provata ma non ne capisce niente e ho visto ho aperto il pacotezzendo questo così ho visto la già la pod chiara che è trasparente hanno cambiato qualcosa sono qui che sono andato a vedere il mio video vecchio ho detto sì hanno raggiunto perché questa qua quella era nera questa è trasparente e quindi già hanno fatto un cambiamento città hanno fatto già hanno fatto qualcosa perché almeno così tu vedi il livello del liquido non vai a bruciare la resistenza all'interno essendo la pod quella la era tutta scura non si vedeva tu non accorgevi e bruciava la resistenza poi l'ho preso pure in mano a città o mi pare strano perché la c'è pensavo più leggera perché quando ho fatto la recensione avevo quella vecchia le prime produzioni una delle prime produzioni di kiwi era proprio leggero si vedeva che era di materiale di scarsa qualità questa risulta più pesante rispetto a quella senti un attimo vicino a questo mio amico senti un attimo prima che tu la utilizzi me la puoi prestare due giorni solo due giorni poi te la do gli ho dato una pod una segretta elettronica mia della spyre sempre con il filtro che ho qua che ne ho due una rossa che ho dato a lui e una nera questa adesso c'è il tip in plastica ma qua ci vanno anche i filtri in cotone e così è stato e ragazzi l'ho provata e hanno fatto davvero un grosso cambiamento perché uno il tiro risulta più contrastato rispetto alla precedente perché si vede che era riusso poi ho notato che il filtro si bagna meno rispetto a quella precedente e questo già ottimo il tiro a safa finalmente hanno ci sono accorti che il tiro non era ragazzi forse le critiche sono servite a qualcosa infatti non è solo la mia perché pensate che guardano a me ma tante critiche fatte sono servite a qualcosa perché hanno fatto un grosso cambiamento ragazzi sia per la pod sia per il fatto della condensa e per il tiro e per i materiali perché si vede che adesso è più pesante rispetto a quella e niente ragazzi devo essere sincero se devo dire la mia adesso io se devo consigliarlo adesso io dico sì la consiglio non sto dicendo che questo è il top di tutte le sigarette elettroniche però per il tipo di sigaretta e quello che serve per me vale quindi è il top questa qua per chi vuole smettere di fumare ragazzi perché non c'è sta un cazzo da fare la gestualità ce l'ha hanno migliorato il tiro hanno migliorato tante cose è più solida per chi non lo sa questa qua adesso questo video andrà a finire anche su instagram e su tik tok questa si può utilizzare sia così oppure attaccata al suo power bank questo qua è un power bank che ricarica questa in questo modo qua vedete adesso sta in carica quindi anche sotto carica anche sotto carica si può utilizzare comodissima ragazzi questa è il top per adesso è il top per chi vuole smettere di fumare ripeto non sto dicendo che questa è la migliore sigaretta elettronica in generale no perché questa fa parte di una categoria per chi vuole smettere di fumare per chi vuole la gestualità perché perché ragazzi è come la sigaretta si può mettere vedi per chi vuole la semplicità molto semplice quando finisce che sentite il sapore alterato questa va buttata si prende un'altra pod che via discorrendo quindi ragazzi io vi saluto con la svapata e le critiche sono servite a far migliorare un prodotto ciao a tutti